Benvenuti all'Utilcasa, il negozio di Via Roma a Belluno per qualche consiglio utile di stagione con i nuovi prodotti messi sul mercato. Guido, oggi di cosa parliamo? Parliamo del sottovuoto, uno svuotino piccolino, pratico, veloce per casa, funziona sia a pila che a corrente. Guido, spiegami allora come funziona, perché sul tavolo vedo sacchetti, contenitori e bottiglie. Prendiamo il salame, metto il salame, lo chiudo, prendo lo svuotino, e in pochi secondi è fatto il sottovuoto. Prendiamo il pane, lo mettiamo all'interno, chiudiamo, chiudiamo il tappo, e dopo diamo il sguotino. Ricordiamo che in Utilcasa, in Via Roma a Belluno, ci sono in vendita non solo gli svuotini, ma i sacchetti e i contenitori. Guido, dicevo prima, c'è anche un tappo, a cosa serve? Il tappo serve per mantenere il vino fermo. Prima che si tappa, poi si è dato sempre lo svuotino, pratico, e si mette con lì. Quindi dura molto di più, puoi lasciarlo lì più tempo. E anche per oggi è davvero tutto, vi ricordo che lo svuotino, con i suoi accessori, è in vendita da Utilcasa in Via Roma a Belluno. Ci vediamo alla prossima puntata. A rivederti, ciao! A rivederti, ciao!